ciao ragazzi bentornati video sul confronto operatori mobili richiesto eccolo qua per voi canale dalle parti degli utenti video pronto videogame console.it l'utente più veloce che ha messaggiato il saluto l'ultima volta ciao a te non è la prima volta sei molto veloce che arrivi per primo chi per primo in questo video avrà il commento qua sotto super saluto nel prossimo video cercherò in questo video di dare a voi che siete super tecnicamente fantastici quando non c'è ombra di dubbio un consiglio sugli operatori virtuali per g7 più in voga vanno bene non vanno bene la rete non la rete ve lo consiglio non ve lo consiglio a mio modesto parere me l'avete chiesto in tanti arrivo ve li ho elencati tutti parto da china mobile un operatore da quale ci si aspettava tanto dal 4g da più di un anno che ormai su rete team rete molto affidabile non ci sarebbe stato nulla da dire sul consigliarvelo no fino a un mese fa ma dopo la castrazione diciamo la limitazione di banda 5 76 in upload a 30 megabit sul 4g e la rimodulazione che c'è stata della tariffa summer non vogliamo più vincoli basta vincoli basta vincoli basta rimodulazioni portano solo mal contento lo dovete capire non è una mossa comunque che ha giovato a questo operatore che sia una rete molto stabile una piena star a 5 euro al mese minuti limitati 50 giga ma con la limitazione di banda soprattutto sull'upload molto pesante per non parlare della rimodulazione che ha portato un po di mal contento all'interno ovviamente della clientela quindi consigliate a chi se ne frega di essere rimodulato o se ne frega della limitazione di banda perché gli basta la velocità allora a quel punto ha una rete team stabile è un operatore da quel punto di vista affidabile se però dobbiamo vedere rischio rimodulazioni rischio trasparenza o rischio di limitazioni di banda non ve lo consiglio sicuramente fate voi un po in base a come si sta muovendo questo operatore se farne la vostra scelta o no la rete ottima il resto non è molto non è molto chiaro allora passo a o mobile o mobile fermo oramai da tempo quella offerta 999 più cara di chiena più cara di team più cara di iliad però la differenza possiamo dire che ha gli sms illimitati che chiena non ha messo ha la limitazione a 30 megabit in download in upload e non a 576 sull'upload come quella di chiena quindi secondo me tra le due offerte nonostante il prezzo offre gli sms è una limitazione inferiore di banda o potrei consigliarvi anche o perché da questo punto di vista comunque è leggermente migliore lasciamo stare il prezzo un po più caro però ti metto gli sms se ti limito la banda un po meno ci saldiamo anche se è un operatore un po fermo non vedo marketing non vedo offerte non vedo reazioni è un po fermo lì questo già non mi fa pensare a dei buoni presentimenti perché è un operatore fermo che non propone tariffe che non sponsorizza non è mai un buon segno d'altra parte comunque ha un prezzo più alto degli altri la rete vodafone è molto affidabile se non avete problemi per gli altri punti di vista che vi ho detto potete passare a o mobile però questa ferma questo prezzo un po alto questa spinta sempre verso contrastare Iliad con le coppie in colla a me non convincono molto non hanno mai convinto però sicuramente dal suo canto a una rete come quella di vodafone che non vi creerà assicuranti problemi poi l'upload e il download limitati ma meno di quelli di chiena quindi qui poi la scelta ricade puramente su di voi vado a parlare di un operatore che mi ha sorpreso molto poi anche a fine video vi dirò magari un po di un pochino di più perché quando c'era la scelta un po definitiva copvoce copvoce rete team senza limitazioni 30 giga sms chiamate illimitate 9 euro al mese un'attivazione non carissima 9 euro quindi diciamo un operatore virtuale che si appoggia senza limitazione alla rete team anche in 4g che vi da 30 giga chiamate sms illimitate che è un prezzo che magari non è proprio il migliore del mercato ma neanche il peggiore però senza limitazioni vi beccate 30 giga chiamate sms a 9,99 secondo me bisogna stare attenti perché questo copvoce sta bene è un marchio molto forte conosciamo tutti le cop le cooperative sono molto forti stanno bene economicamente questa proposta non è male a 9,90 no scusate a 9 euro al mese corrego 9 euro 9 euro parliamo comunque di un'offerta che è dentro perché se consideriamo gli sms non le limitazioni comunque con il prezzo si è abbastanza detto 30 giga tutto è limitato ci può anche stare per essere un virtuale sto parlando per essere un virtuale stiamo parlando anche di operatori virtuali quindi comunque mi sento di promuovere mi sento di consigliarla per chi magari ha un secondo numero anche ma anche per chi vuole farlo come il primo numero se poi uno ama gli operatori virtuali io non li ho mai fatti e non li farò mai sapete già perché non voglio essere una seconda scelta ciò non vuol dire che non funzionano io ho degli amici che hanno l'operatore virtuale come primo numero va bene o come secondo numero va bene non c'è problema con le loro limitazioni ogni tanto magari hanno qualche piccolo problema però quello si può avere anche con l'operatore fisco meno ma si possono avere comunque mi pare che questa offerta a 9 euro che abbia un po' l'equilibrio di tutto considerando che a 9,99 costa meno comunque di quella di Vodafone e questa non ha limite quella di Chiena non ha gli sms al limite questa costa un 4 in più ma non ha i limiti ha gli sms in più ci sta non mi dispiace ve la consiglio adesso passo a poste mobile qua non me ne volate male chi è cliente poste mobile io ho sempre detto medioevale è medioevale rimane purtroppo non trovo cioè non è chiara questo operatore qua non è chiaro io vedo questa crimine style 5 giga e 500 credit per chiamare a soli 5 euro ma non è chiaro mettere i crediti mettere le chiamate i crediti per chiamate sms a soli 5 euro 5 giga e 500 crediti cioè chiamate limitate ssm limitati giga come fanno tutti qua mettono i crediti per farti fare le chiamate gli sms 5 euro 5 giga poi hanno quella da 8 euro e 30 al mese che però devi pagare 6 mesi prima per avere i giga le chiamate no che è quest'altra qua che ve la dico fino a 50 giga sms minuti limitati a 8 euro e 30 al mese ma anticipati di 6 mesi cos'è un mutuo un finanziamento non sono più tariffe che si possono proporre oggi il mercato è libero e senza vincoli io non posso trattenere uno 6 mesi con il prezzo se poi c'è capite macchinoso non lo so l'operatore c'è poste mobile un marchio forte la rete che si appoggia buona però non è chiaro 5 euro chiamate e credit a me non non so non mi prende c'è qualcosa che non mi prendi 5 giga 6 anche sta storia dei credit toglili anche sta storia di anticipare sei mesi la tariffa da 50 giga le altre le fanno mensili le tariffe cioè quello che non c'è vede un po la mentalità retro no in questo operatore che ha delle potenzialità come operatore virtuale potrebbe lavorare un po meglio vuole distinguersi dagli altri lo capisco metti i credit faccio i sei mesi con tu mi anticipi i soldi ti do gli 8 euro 30 e 50 giga le chiamate però è una distinzione che secondo me che non paga che porta indietro al posto che portare avanti io non ve lo consiglio poi ognuno faccia le sue scelte andiamo su un operatore molto richiesto e qua me l'avete chiesto in tantissime optima mobili optima italia luce gas conoscete già vendono un po di tutto ecco io ho trovato questo per cercate di seguire bene il discorso questo operatore virtuale un po un mercato no perché mi sembra che ci siano tantissime tariffe ti taglio di qui ti taglio di la sconti di qua sconti di la 24 90 all'anno 350 al mese mi sembra poi di essere al mercato dove c'è la bancarella dove devi scegliere cioè non vedo tanta chiarezza no in questa tipologia di di azienda qua nel senso non che un'azienda poco chiara nel senso che fa del male a qualcuno non è chiara con i pre cioè nel senso non voglio parlare male di nessuno però da come mi si presentano le offerte intanto mi chiedi 24 euro e 90 all'anno per 400 minuti mille minuti 3 giga in 4 g ok è un'offerta base 3 euro al mese circa di media per quello che ti offre ci può stare ma perché mi devi chiedere 25 euro prima anche qua perché ti devo anticipare 25 euro che se poi me ne voglio andare casini non casini allora non va bene via quello che mi chiedono 25 50 euro anticipati la scarto poi qua c'è una da 350 al mese con 600 minuti mille minuti verso optima 600 verso tutti 100 sms 5 giga ma a un euro in più si possono avere chiamate sms limitati e qualcun altro anche virtuale anche giga dentro con meno di un euro in più poi i mille minuti verso optima ma chi ce l'ha optima cioè se io faccio una sim come secondo un numero domani optima con tutto il rispetto di optima ma quanti sono i clienti optima sulla copertura nazionale degli operatori virtuali fisici lo 0 1 per cento cioè se io 600 minuti verso tutti dammi mille minuti verso tutti e 500 300 verso optima non il contrario tu mi dai verso optima più minuti di quelli verso tutti non ci siamo gli sms 100 possono passare 5 giga vabbè per chi ne consuma pochi questa potrebbe essere un'offerta passabile anche se a un euro 50 centesimi più si trova anche di meglio e soprattutto non mi piace quel discorso dei mille minuti avvantaggiati verso optima invece che verso tutti poi c'è la special 20 che quella diceva un po più equilibrata le altre due non mi sono piaciute quella da 4 90 al mese al mese qua parliamo non robe anticipate mille minuti verso tutti anche qua mille minuti verso optima 100 sms 20 giga allora qua anche qua se guardo oltre il confine a 4 90 trovo comunque offerte con minuti limitati sms limitati se non mi frega i giga mi posso fare già con altri operatori ili ad altri la tariffa senza internet illimitate non coi mille minuti se mi interessano i giga trovo tra i virtuali comunque o anche qualcuno tra il fisico offerte vicino a questo prezzo con il giga dentro ma con le limitate perché a me il discorso dei mille minuti verso optima non mi interessa dammi duemila minuti verso tutti cioè è quello che non riesco a capire 100 sms possono bastare visto che oggi gli sms non li diciamo strausano tutti è un'offerta che potrebbe anche essere la più interessante delle tre se vogliamo chiudere un occhio su quei mille minuti verso optima a me non basta mille minuti perché li consumi in dieci giorni gli sms e i giga a me non bastano un utente medio potrebbe dire a me mille minuti lasciamo stare quelli verso optima se è un numero optima possono bastarmi 4 90 però se mi guardo intorno secondo me lo stesso prezzo trovo anche i minuti illimitati detto questo non mi convince a me questo operatore virtuale non è non è chiaro non è chiaro non è molto chiaro e io dove non c'è la chiarezza al 100 per cento almeno al 90 per cento non mi fido poi sicuramente funziona tanti di voi me ne hanno parlato bene ne mi fido di voi però se io dovessi fare una carrellata se scegliere io non lo non lo sceglierei non farei una una sim con loro parto con fast web mobile me l'avete chiesto in tanti qual discorso è diverso qua c'è una rete team forte un 4g un 4g plus che funzionano bene anche appoggiandosi una rete molto valida però il discorso fast web mobile lo chiarisco una volta per tutte 30 giga minuti limitati sms 100 al mese e wifi wifi illimitato e copertura di rete 98 per cento va beh il fatto del wifi illimitato a copertura rete si sapeva già 995 al mese chi invece solo cliente mobile 1495 con 20 giga non con 30 giga fast web mobile va bene per chi è cliente con la linea fissa punto se siete clienti fast web con la linea fissa e volete farvi l'operatore virtuale appoggiato a rete team mobile allora avete qualche tariffa da 5 euro al mese questa da 995 quei 30 giga limitato il wifi e tutto quanto allora voi utilizzate anche il wifi oppure avete la possibilità di spendere 995 al mese offerta però che cop voce con 90 centesimi in meno vi dà gli sms anche illimitati su rete team pensateci però se siete clienti fissa linea fissa con fast web fibra allora va bene vi danno dei vantaggi c'è anche una tariffa che costa io l'ho vista prima 5 euro al mese per i primi mesi mi pare poi comunque ci sono dei vantaggi perché cliente con la linea fissa vi bloccano il prezzo 995 con i 30 giga minuti sms 100 sms potevano mettere limitati non si facevano male diciamo che fast web mobile funziona può essere affidabile perché comunque su rete team è conosciuto però va bene per chi ha la linea fissa se io fosse cliente solo mobile 15 euro per questo pacchetto non li faccio perché trovo di molto meglio io penso che fast web mobile vada bene perché cliente con la linea fissa per gli altri io non lo consiglio ultimo un po messo lì nell'angolino magari poco considerato invece che ha un'offerta che non è male anche qua su rete vodafone fino a 60 mega quindi limitazione molto alta però è uno mobile uno mobile ovviamente è l'operatore virtuale di carefour lo conoscete tutti nei punti vendita care furono gli ipermercati si possono fare le sim 50 giga in 4g limitazione 60 megabit per secondo non male dal terzo mese diventano 55 giga con 50 sms in omaggio 9 90 al mese per rete vodafone 60 mega 50 giga chiamate illimitate scusate non ci sono gli sms subito però dal terzo mese abbiamo anche 50 sms chiamate illimitate e 55 giga 9 90 allora il prezzo c'è perché secondo me arrivare al terzo mese 55 giga con dentro anche gli sms le chiamate limitate a 9 90 sono competitivi la rete buona l'unica cosa non capisco perché mi devi mettere dal terzo mese i 5 giga in più gli sms i primi tre mesi no questo è la cosa che mi lascia un po a parte che come affidabilità totale tra copvoce uno mobile per il suo copvoce però uno mobile con questa offerta 9 90 che ti spara lì 55 giga dal terzo mese 50 subito ti aggiunge poi gli sms le chiamate 9 90 ci sta la consiglio se uno vuole un secondo numero qua secondo me può pass uno mobile si può provare diciamo è un'offerta che si può provare a tante offerte poi c'è un casino un mercato anche qua la large 18 giga mille minuti c'è 90 questa non conviene secondo me questa 9 90 è quella veramente che può convenire provare però non capisco perché devo partire dal terzo mese con gli sms i 5 giga in più quando potevano darli dall'inizio che avranno i loro i loro costi le loro attivazioni che devono partire differenziate ok ci può stare però a me non piace questa cosa anche qua perché mi fai venire il dubbio non ci deve mai essere il dubbio il vincolo il dubbio mai devo essere sempre libero di dire questa l'offerta la pago è pronta qui è pronta ma parte differenziata con l'aggiunta questa è l'unica cosa che mi ha fatto storceraso per adesso il prezzo c'è l'offerta si può provare detto questo basta operatori virtuali li abbiamo citati tutti ma vi do una chicca finale plintron le prime tariffe da marzo ma le chiedete in tantissimi io cosa posso fare la magia di indovinarvi quale sarà la prima tariffa di plintron in italia beh guarda spariamola lì è non pensate che abbia degli agganci con plintron o che abbia chiamato il direttore generale di plintron e abbia chiesto che tariffa c'è perché non è così possiamo optare per una tariffa tra i 5 e 6 euro quindi da 4 99 a 5 99 50 60 giga chiamate sms limitati 10 giga di roaming sarebbe una tariffa bomba su rete vodafone che sicuramente farebbe tremare gli altri operatori virtuali non quelli fisici che si possono difendere magari con altre armi ma un'offerta come quella che vi ho detto adesso di plintron se fosse vera farebbe tremare anche i fisici un pochino non solo i virtuali io ve l'ho detta poi se tra qualche mese arriva un'offerta simile l'abbiamo azzeccata come sempre per il resto operatori virtuali quale scelgo beh di tutti quelli che ho visto io farei copvoce pensate voi in questo momento perché a 9 90 oppure uno mobile uno dei due 50 giga poi entra dal terzo mese quella è quello che mi fa storcere però di là ho i 30 giga chiamate sms rett team non ho limitazioni 9 euro ci può stare ci può stare mi è piaciuta molto copvoce mi è piaciuta anche quella di uno mobile come scelta magari anche di secondo numero non butto via le altre perché comunque che no e poste mobile no assolutamente optima mi sembra di essere un po al mercato quella da 4 90 si può anche provare comunque c'è un buon mercato sugli operatori virtuali dico che comunque c'è abbastanza scelta detto questo è tutto siete super tecnicamente fantastici alle prossime ciao e grazie come sempre ciao 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 ciao